Ciao amore, quanto sei bello, bevi perché ti fa bene, non bevi mai, solo si mette l'acqua così, è un gatto proprio prelibato, lui deve bere dal bicchiere mio, però lì non ce l'ho bevuto io, quello è il suo, lui lo sai, quello è il suo bicchiere, la sicurezza stradale, lui è il signorino, beve dal bicchiere di vetro, lui non faceva uguale, quindi alla fine se non vedrà più, si è ammalato, invece lui non si è ammalato, ma è il bravo bambino, è contante, mio principe, mio principino, bello principe, amore, ciao amore, bevuto, è la televisione, quanto sei bello, finito di bere amore, 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 bravo, amore, amore, bravo, ma è il mio cuccioletto, Dei giulini e bambini in auto, anche questo provvedimento non verrà messo ai voti, un duro colpo per chi ci aveva creduto, come Andrea Albanese, quattro anni fa ha dimenticato suo figlio in macchina sotto il sole, quando è tornato all'eroporto, ora per Luca a due anni non c'era più niente da fare, da allora il suo obiettivo è evitare che si ripetano tragedie simili, dal suo dolore è nata un'associazione, una pagina Facebook, una petizione, Sì, purello si è dimenticato nel lavoro, si è dimenticato il figlio, purello, è proprio un medico, un tipo di urgenza, si è dimenticato il figlio in macchina, già ci sta proprio fuori, amore, come si è venuto di dimenticarsi il gattino in macchina, che magari c'ha bisogno di cure, no? Ma non si può, non si può fare, lui fa buia, Un momento di massimo traffico portautorici, che è la grande stazione dei treni, degli autos della metropolitana sulla 42esima, Amore mio quanto sei bellino tu, L'amore della mamma, C'è l'amore della mamma tu? C'è un po' male però, sembri tanto tanto che stai benissimo, Vero? Stai così e così? Vabbè, Basta che ti riposi e mamma, È vero? Ti fai un po' di nonnette? Amore della mamma, Amore della mamma, Mi ha fatto un attentato oggi, Un attentato a New York, mi dispiace tanto, Tanto si abitava a New York e stava a casa, come oggi, Io sto sempre a casa, Studio a casa, sto a casa, Miau, Ma infatti non mi pare che stai tanto bene, L'unica cosa è che finalmente è bevuto, Ma anche poco, Mica tanto, Bevuto un pochettino, Amore, Piccolino della mamma, Cicciolino, Il nasetto sta diventando nero, No, 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 Ma no, 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 Un mese che stai così, Però ti curiamo, Sta un pochino così, C'è sempre un po' la bua, Al sederino, Però sta bene, Invece se ti portavo in clinica Ti tenevano un mese in là, Dicevano, E ti facciano morire una settimana, No, non lo curiamo, Solo non lo possiamo curare, Invece non è vero, Stai a casa e dormi, Mangi, dormi, E la cura è questa, Amore mio, La cura è anche fare le passeggiate fuori ogni tanto, Invece quelli ti tengono dentro là, E poi non mangi più, Perché ti ammali subito, Se poi dopo ti senti triste, Non mangi, Lo so, Invece tu stai bene, Vero stai bene, Vero stai bene, Benino, Basta che lo vuoi tu, Che lo vuoi tu, Se lo vuoi tu stai bene, Ok? Amore, Se tu vuoi stai benino, Amore, Amore è bello, Peccio peccio poccio poccio, In porta agliata, Qui in basso, A sinistra c'è una cassa, Ho scritto pericolo, Esplosivi, Questa è la minaccia, Oggi, C'è l'ipotesi, Che l'attentatore sia un uomo sui 37 anni, Originario da Bangladesh, E che avrebbe dato il nome dell'ISIS, Si tratterebbe, Se questo fosse confermato, Ma stiamo parlando di una indiscrezione, Riportata da un ex poliziotto, Un ex commissario di polizia, Alla televisione CNBC, Si, Se questo fosse confermato, Prenderebbe corpo, Perché non sarebbe la prima volta che accade, Tentatura, Ma al destro, E cioè che, Avrebbe fatto esplodere, Avrebbe fatto esplodere il suo ordigno, Ti sente un po' male la tele, Vabbè, Aveva commesso, Per errore, Per errore ha acceso le persone, Queste sono immagini sempre della, Uscita, Uscita, La, Persone che vengono da una metropolitana, E comunque, Vabbè, Buonanotte cucciolo, Adesso ti saluto, Fai la nanna, Ciao amore, Vi salutiamo, Ciao amore, L'isis conflitto sul terreno, Ma come si dice ormai,